Ah, bravo il mio Stewy che ha pulito il piatto, anche se ne hai buttato... Sì, 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 ne ho buttato più addosso a me che dentro di me, la conosco la battuta, Lois. Ecco qua il dolce, tesorino, mangialo tutto. Lo mangerò quando sono pronto. Ciao. Sono pronto. Bene, bene, è l'ora del dolce, giusto? Vediamo, una bella torta al cioccolato per Stewy e qui abbiamo qualcosa di molto succoso per il ciccione. Buon appetito! E usa pure la mia forchetta, io non ne ho bisogno, guardami, amico bello mio. Oh, Stewy, smettila di mangiare come un porcellino. Forse dovremmo cominciare a eliminare i dolci, stai ingrassando troppo ultimamente. Chris, dove sei stato? Papone mi ha portato da un dottore per farmi aspirare la ciccia dalla pancia. Cosa? Sì, ma non l'ho fatto, preferisco continuare con la dieta e la ginnastica. Sei stato molto saggio, hai deciso da vera persona matura. Insomma, che genere di deficiente irresponsabile narcisista indolente potrebbe mai prendere in considerazione un'ipotesi così assurda come la liposuzione? Chi? Io mi domando, chi? Salve a tutti!